io sono oggi una vecchia signora di 87 anni sono una nonna soprattutto e come tale mi presento ai ragazzi ai quali vado a raccontare la mia storia ma non sono stata sempre così sono stata anch'io una bambina sono stata una bambina milanese una bambina felice una bambina di una famiglia borghese molto molto stretta intorno a questa bimba la mia famiglia è una famiglia ebraica assolutamente laica gli amici non erano soprattutto ebrei o soprattutto particolari persone era una famiglia molto piccola ma aperta al mondo sia per la mentalità delle persone sia per la bontà dei loro sentimenti io quindi ero cresciuta in un clima assolutamente dolce pacifico intelligente e mi trovai a otto anni di colpo a capire che ero ebrea prima non lo sapevo neppure e che come tutti i cittadini italiani la minoranza assoluta 35 mila persone rispetto ai milioni di italiani di allora che venivano per le leggi razziali scartati come merce avariata esclusi dagli uffici pubblici esclusi dall'esercito esclusi da qualsiasi carica esclusi dalle scuole e fu uno shock un shock terribile uno shock per cui cominciai a chiedere prima mio papà io non avevo la mamma e poi a me stessa per anni per anni quel perché 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 domanda a cui non mi sono mai saputa dare la risposta perché persone innocenti che non avevano fatto nulla di male che venivano messe da parte che venivano ignorate dalla maggior parte di quelli che prima consideravano amici salvo quei pochi che sempre ci furono accanto e guardati a vista descritti come nemici della patria di colpo la nostra vita cambiò cambiò completamente ci furono preoccupazioni che io capivo anche se i bambini di allora non venivano spiegate le cose come oggi capivo che c'erano questi sguardi tristi nella mia famiglia la preoccupazione economica la preoccupazione politica alleanza con la germania tutte cose che infatti portarono a un disastro per gli ebrei di tutta europa allo scoppio della seconda guerra mondiale tutti gli eserciti caddero come marionette una dopo l'altra sotto lo strapotere militare tedesco quello fuggi fuggi generale di persone magari oggi i ragazzi mi chiedono ma come mai non siete scappati prima come mai non vi siete messi in contatto uno agli altri come mai non vi siete ribellati e i ragazzi non possono capire salvo che pensando a un dirottamento di un aereo come una persona sola armata possa tenere in scacco come ben sappiamo due trecento persone dentro un aereo o addirittura migliaia di persone in un teatro e fu così una ricerca pazza sfrenata di un rifugio e mentre molti conventi si aprirono e molte case di amici che rischiavano la vita per ospitare un ebreo si aprirono la maggior parte della popolazione italiana voltò la faccia dall'altra parte ci fu quella indifferenza che io raccomando sempre ai ragazzi di vincere l'indifferenza perché l'ho trovata nella mia vita più forte della violenza quella indifferenza dalla quale è difficile proteggersi perché come fai a proteggersi da uno che non ti fa niente ma a volte la faccia dall'altra parte dopo la guerra dirà ma tu dove sei stata in tutto questo tempo mi accompagna di banco che non ti ho più visto e alla mia risposta Auschwitz capivo che avrei dato molto fastidio con questa risposta tanto che cominciai a non darla più e a rinchiudermi in un grande silenzio allora non ero così allora era una ragazzina affettuosa allegra era una ragazzina che cercava di smuovere mio papà per fuggire in svizzera dato che noi eravamo sfollati durante la guerra in un paese dell'abrianza che non era molto lontano dal confine e io supplicavo mio papà gli dicevo andiamo andiamo anche noi in svizzera ma mio papà è un uomo bellissimo allora di 43 anni vinto già dalle avversità della sua vita un uomo che capì poi essere assolutamente un perdente che sarebbe stato un perdente mio adorato perdente mi diceva non posso scappare con te perché non posso lasciare i miei genitori lui era un figlio e un padre straordinario ma tra due fuochi non sapeva assolutamente cosa fare la sua indecisione fu dolorosissima io me lo ricordo che alla sera dormivamo insieme in una cameretta a due letti e lui sbatteva la sua testa contro il muro io sentivo questo cranio far crac crac e lo dicevo non fare così e lui diceva non so cosa fare non so cosa fare era un uomo disperato poi per quello che riguardava me arrivarono degli amici fantastici che mi tenero nascosta prima una famiglia in valsassina e poi una famiglia a legnano quando papà con gran pericolo con le carte false mi veniva a trovare io gli dicevo papà fuggiamo non voglio stare qui e quando finalmente ottenne un permesso dalla questura di como che fu poi carta straccia noi credemmo a quel permesso del questore di como che vista l'età e la grave malattia che aveva mio nonno che era un malato terminale di parkinson permetteva loro di vivere sotto la custodia dei padroni di casa che si facevano garanti miei nonni furono poi deportati e uccisi naturalmente all'arrivo d'auschwitz nel maggio successivo per una spiata e seppi poi che per 5.000 lire a persona li aveva venduti quelli che mi tenevano nascosta in casa a legnano organizzarono la nostra fuga in svizzera aiutati da delle persone che lavoravano al calzaturificio di varese che avevano dei parenti contrabbandieri oggi io sento parlare quasi ogni giorno di scafisti e ci tengo a raccontare ai ragazzi che mi ascoltano che in tutte le epoche ci sono stati gli scafisti quelli che hanno approfittato di che fugge per un male atroce e di questo male fanno un commercio troviamo questo gruppo terribile di persone esose che per miracolo ci fecero passare là sulle montagne dietro a vigiù dietro a saltrio dove una cava di sassi so che c'è tuttora e ci abbandonarono su questa cava di sassi buttando giù quello poco bagaglio che avevamo portato scendemmo io mio papà e due vecchi cugini ravenna ci voltammo guardare le montagne italiane piangendo tutti e quattro e dicendo addio questa terra che ci hai tradito così spaventosamente ma meno male che siamo arrivati in svizzera terra della libertà e ci sembrava quasi impossibile di avercela fatta era un miracolo e al comune di arzo che fu il primo comune che incontrammo delle guardie ci presero sotto la loro sorveglianza e ci accompagnarono al comando di polizia di arzo ci sembrava impossibile il silenzio la tranquillità la gente che passava ci vedeva e non ci guardava in questo paese poi entrammo in questo posto di polizia e ci fecero sedere su una panca e lì restammo ore era presto la mattina e fino al pomeriggio nessuno ci diede un bicchier d'acqua nessuno ci diede un pezzo di pane nessuno ci fece una domanda e noi passammo da questa gioia questa felicità a un senso di spavento di terrore di dubbio di che cosa ci stesse succedendo ma certo mai pensando che quell'ufficiale svizzero tedesco che finalmente ci ricevette ci avrebbe trattato in quel modo spaventoso ci guardò ci disse che eravamo degli imbroglioni che mio papà sicuramente sarebbe stato richiamato alle armi guardando me con disgusto disse ma per quale motivo fare una cosa di questo genere di venire qua da noi e quando mio padre disse ma scusi guardi che siamo perseguitati che se non ci prende ci deportano lui disse che non era vero e che eravamo degli imbroglioni allora io in quel momento la disperazione fu tale che io mi inginocchiai gli stringevo le gambe lo supplicavo signore ci tenga qui non ci mandi via e lui mi ricordo che mi allontanava così come si fa quando un cucciolo ti dà fastidio e non ci fu niente da fare lui fu lui ci condannò a morte salvo io che sono tornata prima i due vecchi cugini Ravenna uno si è suicidato a San Vittore e l'altro è morto di stenti a fossoli e mio padre beh mio padre dopo la deportazione è durato tre mesi e poi è stato ucciso quindi lui non ci ha materialmente ucciso ma ci ha condannato a morte perché era facile disobbedire a quell'ordine troppa gente entrata in Svizzera anche quando la barca è stata piena perché un ufficiale un soldato un uomo ha fatto finta di niente siamo stati riaccompagnati dove eravamo passati alla mattina dalle guardie con la baionetta innestata e sulla frontiera non riuscimmo a passare da un buco della rete ci arrestarono i finanzieri italiani in camicianiera dall'altra parte mentre i soldati svizzeri con le armi impugnate ci impedivano il rientro sghignazzando così tra chi sghignazzava e chi imponeva siamo stati arrestati è stata una lunga storia la mia che a 13 anni ho fatto tre carceri carcere di varese il carcere di come il mio carcere di san vittorio a milano c'era un destino ed ero sempre passata in bicicletta davanti al carcere non avevo mai pensato a chi era dentro il carcere e non avrei mai pensato di vedere io fuori chi passava da dentro il carcere della mia città per la colpa di essere nata mentre a varese a como fui da sola a san vittore fu in cella con mio papà e fu l'ultima camerina quella cella 202 del quinto raggio che io divisi con mio papà poi dopo 40 giorni fumo deportati la deportazione dal binario 21 della stazione centrale di milano da quei sotterranei che adesso si chiamano memoriale della joa si partiva per ignota destinazione e il viaggio durava una settimana nei vagoni piombati io sono una delle poche che è tornata a raccontare del viaggio questo viaggio inumano che trasformava le persone che all'arrivo erano uomini donne bambini vecchi con il loro nome e all'arrivo o venivano uccisi la maggior parte o diventavano un numero mia famiglia è stata uccisa io sono diventata un numero 75 190 e ho cominciato a 13 anni quella solitudine del prigioniero che è una solitudine come può essere quella del malato il malato è solo con la sua malattia così il carcerato è solo con la sua pena e vedere gli altri carcerati nel senso del mal comune mezzo gaudio non è vero è un proverbio malato perché vedere altri malati se sei malato o vedere altri carcerati se sei prigioniero non ti toglie il tuo male non ti toglie la tua pena te la moltiplica io sono diventata un numero era una ragazzina molto sola che non si voleva affezionare più a nessuno perché il distacco da mio papà era stato un distacco dalla mia infanzia dal mio mondo di prima e sapevo anche se non lo sapevo che non l'avrei più visto come è avvenuto ho cominciato la mia vita di prigioniera sono diventata operaia schiava nella fabbrica di munizioni union sono stata molto fortunata in questo perché con quei climi due inverni più spaventosi di quegli anni vestita picotone diventata scheletro nel giro di 3 4 mesi non avrei retto a fare quei lavori perseguitanti che purtroppo molte prigioniere hanno fatto di scaricare pietre caricare pietre erano lavori assolutamente inutili fatti per uccidere mentre io sono diventata operaia in una fabbrica che purtroppo lavorava per la guerra ma che mi teneva al chiuso pochissime speranze di farcela ma una spinta alla vita un desiderio di non morire lì che era comune tutti sceglievamo la vita io ero un inserviente che portavo bossoli di mitragliatrice in questa fabbrica che era di munizioni a un'altra prigioniera questa jeanine levy francese deliziosa ragazza che avrà avuto 20 22 anni mentre io ero una ragazzina nonostante non fossimo particolarmente amiche perché io poi non volevo essere amica di nessuno però tutti i giorni il mio lavoro consisteva nel portare a lei questi bossoli di mitragliatrice che lei poi con una macchina alla quale lavorava dava una certa forma e mi era molto simpatica questa jeanine perché era molto dolce bionda gli occhi celesti ridenti quando c'era quell'attimo per farsi un sorriso e con una voce molto dolce mi piaceva jeanine un giorno passamo la selezione che passai tre volte nell'anno che fui ad auschwitz che consisteva nel passare nude nella nostra nudità acilenta scheletrita davanti a questo piccolo gruppo di ufficiali e del medico che ci squadravano come le bestie al mercato momento terribile in cui sapevi che se non ti giudicavano più adatta al lavoro ti mandavano a morte quindi era un modo di presentarsi davanti a questi tre come un tribunale di vita e di morte in cui tu non hai nessuna scusa non hai un avvocato difensore sei un pezzo di carne così come t'hanno ridotto e quattro ossa io ero passata e come tutte le volte che sono passata davanti a queste cose io ero felice che ero viva ero felice 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 era come un dono che questi assassini mi facevano ero quasi grata a questi che mi avevano risparmiato per quella volta e sentì che dietro di me fermavano Janine Janine aveva avuto un incidente in fabbrica e la macchina tranciatrice dell'acciaio le aveva tagliato anche due falange di due dita 20 giorni prima eravamo nude teneva uno straccio a coprirle la mano perché non so in che modo l'avevano fermato il sangue io ero appena passata sentì che fermavano Janine e che la mandavano a morte perché non aveva più la possibilità di lavorare come prima beh io non mi sono voltata io non le ho detto ciao Janine fatti coraggio ti voglio bene una cosa qualsiasi anche solo chiamarla Janine 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 io non accettavo più distacchi io ero diventata una ameba io non volevo amare nessuno e fu terribile che mi rivestì nei miei stracci me ne andai il giorno dopo c'era un'altra operaia al suo posto ma poi sono passati anni, decenni, ventenni ormai sono passati più di 70 anni eppure il viso di Janine i suoi occhi azzurri i suoi ricciolini biondi la sua voce dolce è io che non mi sono voltata mi hanno ferito devo dire ferito che è un termine pesante i sentimenti più profondi del mio essere diventata una donna poi una mamma e poi una nonna e di essere stata così eppure io ero così sono stata così l'episodio di Janine è la misura di come i nazisti fossero riusciti a togliere dignità speranza l'avevano tolta quasi completamente ma dignità ai loro prigionieri e l'esempio sono stata io in un comportamento così vigliacco da essere rimasto proprio l'emblema della mia prigionia dal punto di vista negativo della mia personalità allora e io in questi ultimi anni non solo perché sono nonna ma forse perché ormai sono diventata così vecchia che quei fatti sono così lontani ma così vicini nello stesso tempo nella mia memoria io sono diventata la nonna di me stessa io lo dico ultimamente sempre quando parlo quella ragazzina lì quella Liliana lì di 13 anni sola scheletrita affamata che non capiva le lingue la gamba davanti all'altra la marcia della morte diventare operaia schiava vedere quell'orrore che c'era intorno a noi i mucchi di scheletri fuori dal crematorio pronti per essere bruciati le compagne in punizione le cattivere che venivano fatte giornalmente sulle prigioniere inermi come ha fatto quella ragazzina lì come ha fatto io che sono una vecchia tranquilla con una casa intorno a sé gli affetti ritrovati e che ho vissuto una buona vita che sono stata felice nella mia vita ho amato sono stata riamata ma come ha fatto e a volte mi compiango così tanto che a un certo punto devo cambiare l'argomento perché ho paura di perdere la testa dopo un anno circa che ero ad Auschwitz ci spostavano in altri campi tutti dovevamo camminare una gamba davanti all'altra nella neve scheletriti senza mangiare brucando negli immondezzi si doveva camminare non si poteva star fermi chi cadeva veniva finito con una fucilata dalle guardie della scorta quindi bisognava camminare non ci si poteva appoggiare a nessuno e nessuno si poteva appoggiare a noi dopo Auschwitz ci fu Ravensbrück ci fu uno Jugendlager ci fu l'ultimo campo che si chiamava Marshof nel nord della Germania era quasi un anno e mezzo che ero prigioniera era l'aprile del 1945 era un piccolo campo non si lavorava poche si alzavano ormai da quei giacigli immondi pieni di tutti gli insetti più schifosi che ci facevano compagnia che avevamo imparato a non averne neanche più paura o schifo perché erano grandi invece molto grandi quegli insetti che ci facevano paura erano gli SS e tiravamo avanti senza sapere quanto ancora saremmo riusciti a vivere malate di tutte le malattie possibili era l'astenia e la debolezza di corpi che da un anno e mezzo non avevano sostentamento perché non si mangiava quasi mai io non avevo mai più visto né carne né latte né frutta ma delle zuppe con delle farine immonde delle cose che per gli animali erano adatte ma ancora vive nella primavera del 1945 e vedevamo fuori dal campo passare dei soldati francesi prigionieri erano dei ragazzi dei giovanotti e vedevano queste figure particolari che eravamo noi dopo un anno e mezzo di prigionia senza sesso senza età senza capelli senza nome proprio come scrive tanto bene Primo Levi che è sempre un maestro della Shoah e questi ci guardavano da lontano il campo era piccolo e si vedeva il confine e ci chiedevano in francese ma chi è tu chi siete e noi tutte in coro quelle poche ragazze come me che ancora stranamente stavano in piedi siamo delle ragazze ebree ragazze questi non non ci potevano credere pensavano che noi potevamo essere uomini malati vecchi quando capirono che una diceva io ho 14 anni io ho 20 anni io ho 25 anni e c'erano delle francesi con noi per cui si capirono con questi soldati molto bene questi ci dissero non morite proprio adesso non morite non dovete morire perché la guerra sta finendo i tedeschi la stanno perdendo cosa? noi non potevamo accettare la gioia la nostra debolezza era a dei livelli tali arrivata che avevamo sopportato i lutti avevamo sopportato il digiuno avevamo sopportato il freddo le botte la solitudine qualcuno le torture qualcuno gli esperimenti la gioia non era possibile eravamo come delle malate di cuore che con l'ultimo fiato dicevamo la stanno perdendo la guerra mentre le nostre guardie dentro al campo in contemporanea cominciarono a essere nervosissimi a portare via dei mucchi di carte le scrivanie portavano via i dossier di tutto quello che avevano fatto gli elenchi dei prigionieri gli elenchi orribili delle loro malefatte così come andando via da Auschwitz avevamo visto che avevano fatto saltare in aria addirittura le strutture di morte di Birken a Auschwitz per non farle trovare ai russi in arrivo e ora lì questi francesi ci dicevano che da una parte arrivava l'armata russa perché io ero nel nord della Germania non lo capivo neanche perché io la geografia non la sapevo allora e da una parte arrivavano gli americani dall'altra i russi beh era qualche cosa di incredibile di meraviglioso che capitava a noi che era che era incredibile e i nostri aguzzini forse il giorno dopo due giorni dopo decisero di fare evacuare anche quel campo e noi ci ritrovammo sulla strada ma non eravamo più quelle di gennaio della marcia della morte questa volta era praticamente impossibile di riuscire di nuovo a camminare infatti nel giro di pochissime ore successero delle cose incredibili di cui noi fumo testimone della storia che cambiava che stavano per arrivare veramente gli americani da una parte i russi dall'altra uscivano i civili dalle case quelli che non ci avevano mai aperto non dico il cuore che per carità quello sarebbe stato un miracolo io non credo ai miracoli ma un pezzettino di porta per far passare un pezzetto di pane una sciarpa una parola mai uscivano si univano a noi scappavano da quella zona che doveva diventare zona russa e succedeva di tutto che i nostri i nostri guardiani che fino al giorno prima avevano avuto diritto di vita e di morte su milioni di persone si mettevano in borghese mandavano via i cani si mescolavano anche loro i prigionieri qualcuno addirittura Lessi che si mise una divisa da prigioniero per essere confuso questo io non l'ho visto ma l'ho letto più tardi anzi pochi giorni fa c'era Rai Storia raccontava una di queste cose incredibili beh io mi trovai lì in questo momento storico incredibile in cui c'era la rotta dell'esercito tedesco e la rotta anche dei civili che fuggivano dalle case beh capitò a me una cosa una cosa strana una cosa incredibile che il comandante di quell'ultimo campo Marsho crudele SS si mise in mutande come altri soldati per buttare via la divisa e mettersi in borghese e buttò anche la sua pistola ai miei piedi e io di colpo lo guardai capivo che era diventato lui quello che scappava che fuggiva che cambiavano i ruoli in quel momento incredibile e io pensai veramente alla vendetta pensai adesso con fatica perché ero molto debole Michino piglio la sua pistola mentre lui si riveste e gli sparo e mi sembrava così un giusto finale di tutto quello che avevo visto sentito e provato dentro di me ma fu una tentazione straordinaria mai avuta più nella mia vita a lunga io capì in un attimo che io non ero come lui che io avevo sempre scelto la vita che per nessun motivo avrei potuto togliere la vita a nessuno l'etica e l'amore che avevo ricevuto dalla mia famiglia non mi avrebbero mai permesso un gesto simile per fortuna non ho raccolto quella pistola e finisco sempre così la mia testimonianza dicendo che da quel momento sono diventata quella donna libera e quella donna di pace che sono anche adesso che c'è Grazie.